Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi è venerdì e come ogni venerdì abbiamo l'appuntamento con la nuova squadra Tozzi in uscita, stavolta tocca alla Serie A e abbiamo quasi finito di sviscerare quelli che sono i campionati principali, infatti settimana prossima in uscita abbiamo la Ligano, dopodiché anche per questo che è l'ultimo grosso evento di FIFA 20 sarà concluso. Quindi, visto che abbiamo un video lungo che ci aspetta a dire di non perderci troppo in chiacchiere, andiamo ad analizzare i giocatori singolarmente. Una grossa premessa che voglio fare questa volta più delle altre volte è che prese così, ste carte sembrano tutte quante molto 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 valide Quindi, ovviamente il giudizio che andiamo a dare così è un giudizio sommario al quale poi si deve ovviamente rimettere un test sul campo di ste carte per vedere se effettivamente valgono quello che c'è scritto sulla carta. Quindi andiamo e iniziamo da Cristiano Ronaldo, insomma che non ha bisogno di presentazioni, alto-basso 5-4, praticamente carta che è identica al Toti acquisisce per quanto riguarda la velocità un punto in accelerazione e per quanto riguarda l'agilità un punto. Quindi, voglio dire, insomma, non stiamo qui a scoprire un giocatore nuovo, bisognerà vedere più o meno quanto costerà perché l'anno scorso, non so se vi ricordate, il fenomeno per il quale andò a costare tanto in più rispetto al Toti e ovviamente solito top giocatore assoluto che può andare a svolgere sia il ruolo di punta sia appunto che il ruolo di fascia quindi esterno, vario, ocio di ocio S quindi tanta roba il buon Cristiano Ronaldo sicuramente uno dei più ambiti all'interno di questa squadra sia per quanto riguarda premi della VL sia per quanto riguarda Tots garantito. Andiamo avanti e troviamo uno dei giocatori, diciamo, migliori di questo campionato fino ad ora ovvero il mago, Luis Alberto normale, normale, 1,83m, 4-3 peccato per questo treppiede debole andiamo a vedere le statistiche perché vediamo un 96 in accelerazione e un 87 in velocità scatto quindi un bel boost 97 di finalizzazione e 97 di potenza tiro vuol dire che Luis Alberto sa anche concludere quando si avvicina all'area avversaria 99 di passaggio corto e 99 di lungo sono sinonimo di assist garantiti per i suoi compagni 93 di agilità, 85 di equilibrio, 92 di attività, 99 di controllo palla sembrano suggerire un giocatore abbastanza agile la cosa che un po' mi frena è quello 87 di forza che normalmente si traduce nell'avere comunque un giocatore abbastanza pesantino però questo Luis Alberto io lo vedo veramente tanto bene da Ciccino e Rombo e perché no anche da Ciccino un 4-4-2 che può fare bene entrambe le fasi anche perché se magari non eccelle nelle statistiche difensive se avete uno stile di difesa abbastanza manuale potete sopperire a quella mancanza ripeto quindi ruolo consigliatissimo assolutamente il Cicc all'interno di un Rombo e perché no se risulta anche abbastanza agile può anche andare a fare il Coc anche se un po' questo rendimento normale lo lascia un po' nel limbo oltre al treppiede debole che rischia di diventare un problema io credo che non andrà a costare tanto quindi magari se avete una Serie A sicuramente può essere un'ottima scelta andiamo avanti e abbiamo Lautaro Martinez se ne è parlato tanto perché si diceva che potesse avere la 5 stelle piede debole sta cosa invece non si è verificata però resta un signor giocatore 1,74m alto normale tanta roba tanta velocità per lui 96 di accelerazione 96 di velocità scatto finalizzazione 99 potenza tiro 98 vuol dire che dentro l'aria è un cecchino ottimi passaggi 93 il corto 94 il lungo agilità 99 87 di equilibrio 93 di reattività anche in questo caso lasciano suggerire un giocatore molto molto agile ragazzi ma non è così perché ho provato la versione Future Star e potete capire bene il motivo perché quel 99 di forza lo rende abbastanza pesante sarà da capire se il boost ricevuto all'interno di questa versione lo rende effettivamente anche più agile in quei micromovimenti che sapete sono il meta di quest'anno perché poi per il resto controllo palla 98 freddezza 92 insomma sono tutte statistiche messe al suo posto e che sicuramente lo candidano ad essere una delle carte più interessanti all'interno di questo TOTS è anche un serio candidato per andare a ricoprire il ruolo di punta nella maggior parte delle vostre squadre perché con la nazionalità argentina magari si può linkare a un Messi alle Icon ovviamente quindi tanta roba il Toro Martinez che sicuramente cercherò di andare a testare abbiamo poi Ciro Immobile il PCC del nostro campionato fino ad ora 1,85 per lui alto normale peccato per le tre mosse abilità 4 di piede debole per quanto riguarda le statistiche ottima velocità 88 di accelerazione 96 di scatto 99 finalizzazione 99 potenza tiro vuol dire che il buon Ciro in area non ne sbaglia una 93 di passaggio corto top molto male lungo con 62 agilità 87 equilibrio 73 reattività 99 forza 87 unito al metro 85 il buon Ciro è il solito Ciro con le super stats bustate ma pesante al pad questo qui credo che risulti abbastanza macchinoso in quelli che sono i micomovimenti meta di quest'anno per cui a meno che non siete fanboy della Lazio o magari non lo piccate avete una serie A e quindi lo potete andare a inserire io sto immobile non ve lo vado a consigliare nonostante comunque per il resto abbia delle belle stats piuttosto vi consiglio di andarlo a inserire nel caso proprio ve lo ritrovate tra i vari pick tra il tots garantito insomma ve lo trovate non scambiabile potete anche pensare di provarlo ovviamente da punta perché da esterno questo qui sicuramente non vi va via quindi men che meno può fare il C.O.C. l'unica cosa che può fare è la punta vi ripeto ma non ci andrei a fare follie andiamo avanti abbiamo Josip Ilicic un altro giocatore che quest'anno ha avuto un rendimento spaziale normale normale sinistro un metro e 94 4 veloce è veloce perché ha ricevuto un bel boost 91 di accelerazione 87 veloce da scatto finalizzazione 93 potenza tiro 99 tiro dalla distanza 99 è veramente tanta roba le note dolenti arrivano con agilità 81 equilibrio 70 reattività 95 forza 91 raga questo qui avete presente praticamente non lo so una torre di marmo che per poterla muovere servono probabilmente due o tre gru di quarzo e di titanio questo qui non si muove non si muove minimamente quindi nonostante sia indicato ATT sulla carta ovviamente non può fare l'ATT non può fare neanche il C.O.C. non può neanche fare l'esterno perché non va via in velocità al più questo qui può essere utilizzato da C.C. nel rumbo secondo me viste comunque le buone stats e visto comunque il buon passaggio e la capacità di poter essere anche tra virgolette pericoloso in fase offensiva però insomma vi ripeto Stojlicic è il classico giocatore dalle stats iper mega boostate ma che non merita la vostra attenzione attenzione che invece merita il suo compagno dell'Atalanta il buon Papu Gomez 4-4 alto normale 1,65m che già per questo capello platinato secondo me merita di finire nelle vostre squadre accelerazione 99 e velocità 93 vuol dire che questa è una saetta 96 finalizzazione 92 potenza tiro per il Papu spesso e volentieri vuol dire dunque che andrà a punire le difese avversarie soprattutto dentro l'area anche magari col sinistro nonostante abbia 4 piede debole 97 passaggio corto 88 di lungo sono stats notevoli di passaggio 99 agilità 99 equilibrio 93 reattività questo si che è un demonio perché questo qui è super agile io ho avuto la versione picco 87 quella lì già era spaziale da questo punto di vista non oso immaginare il buon Papu cosa può fidarsi di combinare ruoli consigliati dunque sia l'attaccante in un attacco a 2 ovviamente il CC e io gli darei anche un tentativo da esterno alla COS COD come utilizzo ad esempio io messi perché anche per quanto riguarda lo speed boost secondo me questo qui in velocità riesce ad andare via che è una bellezza dribbling 97 controllo palla 97 un'ottima freddezza insomma Papu Gomez anche qui al momento finisce tra i migliori all'interno di sto TOTS anche se secondo me andrà a costicchiare soprattutto all'inizio abbastanza per via comunque anche della nazionalità buona che gli permette di essere linkato con facilità poi abbiamo Debrai 1,89m normale alto 2,4m questo qui ha ricevuto un bel boost per quanto riguarda la velocità e l'accelerazione ottimi passaggi sia di corto che di lungo che unito al 4 piede debole non banale in fase di impostazione vuol dire che questo Debrai non vi va a sbagliare tanti passaggi presenta anche dei buoni attributi per quanto riguarda l'agilità l'equilibrio da reattività ciò vuol dire che comunque con l'L2 va a scivolare abbastanza bene 94 aggressività significa che si attacca ai vostri avversari cercando in ogni modo di strappargli la palla dai loro piedi anche grazie al 94 di forza sappiamo che la resistenza non è un grosso problema su Debrai un tentativo glielo si può dare secondo me lo stile consigliato ovviamente non so magari un motore per andargli a bustare ancora di più l'agilità o se no i classici ancora e ombra che insomma sono quelli che solitamente si vanno ad applicare a questo tipo di giocatore anche se di difesa fisico non è che ha grossi problemi io gli proverei un motore e questo qui linka magari anche anche De Ligt che è uscito nella versione Toti che magari vi siete ritrovati in squadra abbiamo poi Scesni va bene io di solito sui portieri non mi ci vado a soffermare più di tanto insomma è una fase del gioco in cui ce ne sono tanti di portieri top rimangono sempre gli stessi questo qui a meno che non avete una serie A non lo potete linkare in nessun modo perché è polacco quindi classico Scesni di fine stagione anche lui arriviamo a Chris Smalling una carta che sembra veramente pazzesca che cercherò di provare un metro e novantaquattro normale alto quello 87 di velocità non vi deve far buttare fumo negli occhi perché vedete a 77 accelerazione e 94 di velocità scatto questo vuol dire che magari nel primo metro va a perdere un po' e magari sul lungo è più in grado di recuperare gli avversari che vanno via ottimi passaggi anche per lui 88-87 agilità equilibrio e reattività un po' così e così però insomma stiamo sempre parlando di un cristone di un metro e 94 abbiamo detto per cui probabile che comunque con l'L2 non se la cavi malissimo anche perché comunque ha anche un 87 di freddezza un 98 di aggressività e un 99 di forza ciò vuol dire che anche lui si andrà a francobollare agli avversari e tanto se ne staccherà fino a quando non gli avrà rubato il pallone Smalling quindi sicuramente promosso a pieni voti anche lui uno stile consigliato può essere sicuramente ombra per andare a boostare un po' sta velocità e sto dribbling dunque aggirità equilibrio eccetera spero che il costo non sia eccessivamente elevato ma sicuramente anche lui è uno dei migliori all'interno di questo toz per quanto riguarda Andanovic stesso ragionamento di Scesni con la differenza che lui non linka neanche degli ictototi quindi insomma a meno che non avete una full serie diventa problematico e arriviamo al sergente un'altra carta pazzesca un 91 alto normale 4-4 classica velocità insomma riceve un boost ma comunque non è che siamo proprio a livelli top però insomma gullit gang per lui piena e completa ottime statistiche anche per quanto riguarda il tiro con finalizzazione potenza tiro eccetera alti passaggi impeccabili 96 il corto il 96 il lungo agilità equilibrio reattività peccano un po' vista anche il 99 di forza ma comunque stiamo parlando di un giocatore di abbiamo detto un metro e 91 quindi insomma è naturale carta che dunque risulterà abbastanza pesante con l'L2 però ruolo consigliato non sicuramente un ruolo all'attacco per quello che deve fare ossia secondo me il cc in un rombo ma più specificatamente il cdc all'interno di un modulo appunto con due mediani secondo me Stomilinkovic rischia di essere veramente un trattorino e l'unico problema è quello di andarlo a linkare vista la nazionalità problematica però vi ripeto se avete una serie A se avete Icon Stomilinkovic può tranquillamente dire la sua sorpresa Paolino di Bala tanta roba perché ha 4-4 dunque ha ricevuto un aumento per quanto riguarda il piede debole che da 3 passa a 4 e si candida ad essere una delle carte migliori anche lui all'interno di Stotoz perché vediamo un'ottima velocità 96 e 90 buone statistiche per quanto riguarda il tiro 90 finalizzazione 90 potenza tiro anche se mi sarei aspettato qualcosina in più ottimi passaggi 98 corto e 84 il lungo agilità equilibrio e reattività spaziali quindi questo qui risulterà super super agile ottima freddezza ottimo dribbling ottimo controllo palla ruolo consigliato per il buon Paolino di Bala sia la punta in un attacca a 2 magari appunto aiutato da uno con 5 piede debole che ha un po' più di imprededibilità ma ancora di più COC e anche COS COD ruoli esterni perché viste le statistiche visto il suo body type secondo me questo qui può essere giocato anche da esterno alla Messi per cui tanta roba di Bala che sicuramente costerà tanto per quanto riguarda ruolo nazionalità eccetera facilmente linkabile ma veramente si è ritagliato una parte importante nel meta di questo gioco arrivati a questo punto insomma grazie al 4 piede debole che prima invece lo escludeva da qualsiasi ragionamento abbiamo poi quadrato terzino destro dunque un po' ambiguo 5-3 alto normale 1,79 insomma con tutti i terzini destri che girano attualmente quadrato si lo vediamo ha delle statistiche che sembrano impressionanti ma stesso discorso per quanto riguarda magari anche De Vrij difficilmente linkabile e poi ormai a destra lì ci sono anche tante carte che già vi siete sbloccati con gli swap eccetera eccetera rimangono sempre i soliti Semedo e da costa intramontabili che sono anche più facilmente linkabili quindi questo quadrato qui si guardandolo non sembra neanche male ma secondo me non merita di trovare spazio all'interno delle vostre della mia squadra andiamo avanti e arriviamo a Berardi 4-3 un giocatore che quest'anno ha trovato un po' più di continuità 1,83 alto basso un buono boost per quanto riguarda la velocità buona finalizzazione ottima potenza tiro ottimi passaggi freddezza che un po' mi lascia perplesso agilità 99 equilibrio 83 attività 83 un po' me della serie insomma temo fortemente che sto Berardi alla fine non sia agile per quanto effettivamente appaia sulla carta tanto aggressivo ma questo qui insomma lo andiamo a inserire in una squadra solamente se abbiamo una serie A visto che magari a destra non c'è questa grande abbondanza di esterni altrimenti insomma il buon Domenico capirà se voi lo evitate e non lo andate a comprare quindi diciamo né bocciato né promosso lo lasciamo in un limbo per quelli che hanno appunto la serie A abbiamo anche Lorenzo Pellegrini 1,86 alto normale 3-3 che insomma mi lascia un po' così e insomma anche per lui stesso ragionamento per Berardi qui le stazze sono messe al suo posto devo dire una buona velocità buona potenza tiro ottimi passaggi anche lui non è che risulterà proprio agile viste le statistiche e anche delle buone statistiche difensive devo dire la verità ma anche lui insomma a meno che non avete una full serie A difficilmente può trovare posto all'interno di un team arrivati a questo punto del gioco ruolo consigliato il CC ma anche perché no il CC in un 4-4-2 4-2-3-1 già ce lo vedo meno magari a battagliare più in mezzo dal campo come ultimo baluardo quindi anche lui né promosso né bocciato valido solamente se avete una serie A e vi serve un upgrade anche se all'interno di sto tozzo ci sono più alternative al buon Lorenzo arriviamo ad Acerbi come ogni tozzo che si rispetti abbiamo quello che possiamo definire il piqué di turno perché anche qui accelerazione discreta ma una velocità scatto pessima per quanto riguarda poi il resto anche agilità e equilibrio sono veramente veramente dei valori messi male peccato perché c'era anche un'ottima reattività io credo che questo qui sia veramente un tronco molto lento soprattutto nei cambi di direzione fa fatica a stare dietro a quelle che sono le punte avversarie agilotte e meta di quest'anno per cui io il buono Acerbi non ve lo consiglio anzi ve lo sconsiglio caldamente e insomma il motivo lo capite facilmente nonostante avesse anche delle ottime statistiche difensive un'aggressività neanche al top però per una carta arrivata a questo punto del gioco quindi il buono Acerbi lui sta facendo una pernacchia la pernacchia gliela facciamo noi e lo salutiamo e arriviamo invece a Manolas uno che merita una menzione d'onore insomma non lo sa neanche lui come ha preso sto tozzo però un metro e 89 basso alto per chi ha provato quell'altro della versione footbird si ricorderà la mia review mi veramente colpì tanto questo qui è il mostro finale perché riceve un boost pazzesco in velocità ottimi passaggi 85 di agilità addirittura 99 di reattività super agile e aggressivo quindi con l'L2 statistiche di difesa che lo rendono praticamente un giocatore anche molto molto automatico super consigliato ovviamente l'unico problema è quello di riuscire a linkarlo a meno che non avete icon e a meno che non avete una serie A però il buon Manolasio vado a guardarlo così un 9 pieno in pagella un'altra carta interessante è Lorenzo Insigne anche lui insomma non so perché si è preso Statoz avrei preferito più vedere Mertens un metro e 63 altro normale 4-4 e va un po' a rimpinguare quella che è la fascia sinistra di serie A che era un po' scarna perché avevamo solamente da class costa footbird che era valido e sto Lorenzo Insigne sicuramente risulta valido perché 99 di accelerazione 92 velocità scatto ottimi valori buona anche la finalizzazione e la potenza tiro ottimi passaggi super agile perché ha 99 agilità 99 equilibrio 90 reattività controllo palla addirittura anche lui 99 freddezza 89 un bel boost questo qui per me può fare sia ruoli esterni può anche fare l'attaccante tranquillamente in un attacca 2 ma può fare anche tranquillamente il COC quindi Insigne promosso ovviamente anche lui rimane il discorso di utilizzo solamente nel caso in cui avete una serie A perché difficilmente altrimenti ve lo riuscite a linkare però sicuramente occhiolino per Lorenzo Insigne e non male come carta arriviamo a un'altra carta pazzesca Theo Hernandez che mi lascia molto molto hypato perché 1,84 alto normale sinistro 3,3 io ho già provato tutte le altre versioni e mi ha super stupito in particolare quella footbird era veramente disumana questo qua si candida può essere probabilmente il terzino sinistro più forte del gioco peccato per l'82 di freddezza ok però raga le altre statistiche sono allucinanti 96 di accelerazione 99 di velocità scatto c'è pure una bomba dalla distanza passaggio corto top peccato per il lungo super agile super aggressivo anche un'ottima forza un'ottima resistenza questo qui può anche essere giocato da difensore centrale swappato con qualcun altro visto che vi piace spesso fare sti cambi esotici questo qui io cercherò di provarlo data la nazionalità è anche abbastanza ebridabile magari con un varan e con un bappé o con un icon e con un esterno dall'altro lato francese questo qui veramente tanta roba credo che costerà anche un fottio all'inizio però insomma veramente veramente molto molto valido il buon teo vi ripeto l'unica cosa che un po' mi lascia così interdetto è quello 82 di freddezza ma per il resto veramente si merita di essere provato che dire Raja Nainggolan un giocatore che ogni volta che esce spariglia completamente le carte questo sembra assomigliare sempre più al Toz di FIFA 17 alto alto 3 skill 4 piede debole accelerazione e velocità che ricevono un boost importante un ottimo tiro che lo rende letale anche in fase offensiva ottimi passaggi sia il corto che il lungo agilità 84 equilibrio 93 attività 95 che lo rendono anche abbastanza agile anche se l'86 di forza rischia di comunque di appesantirlo un po' ottima freddezza ottime statistiche difensive questo qui io ce lo vedo bene sia da cc all'interno di un rumbo ma anche davanti la difesa magari più in un 4-4-2 che in un 4-2-3-1 però questo qui è veramente tanta roba rimane il discorso relativo alla ibridabilità però il buon Nainggolan sicuramente andrà anche a costare tanto perché sarà super hypato quindi magari aspettate se lo volete comprare perché sono sicuro che poi scenderà perché la gente comunque si renderà conto del fatto che bisogna linkarlo con icon o con carte belga che sì ci sono però comunque quelle valide costano che ne so tipo dei Bruin Tots o il Toti eccetera però tanta roba per Nainggolan che ritorna all'interno del Tots è veramente insomma si candida ad essere una carta che ci potremo ritrovare contro a destra e sinistra da qui alla fine del del gioco quindi raga per quanto riguarda il team è tutto abbiamo analizzato quelle che sono tutte le carte principali spero che questa review vi sia piaciuta io poi cercherò anche di andarmene ad aggiudicare qualcuna sul mercato di provarvela e poi vi porterò la review in un secondo momento sul canale per sto video è tutto vi saluto ci vediamo in live dalle 12 alle 16 o anche un po' prima solitamente su Twitch da lunedì alla domenica e nulla raga vi saluto e peace